Siamo un'impresa che da anni opera nel settore delle tecnologie rinnovabili e proporiamo risparmio energetico per lo sviluppo sostenibile alla nostra clientela. Complessivamente noi siamo un'azienda di impiantistica elettrica e termoidraulica che è anche una società di servizi energetici, una ESCO certificata secondo le normative UNICEI 11352. Partiamo quindi dagli impiantistica elettrica a impiantistica termoidraulica fino ad arrivare ai sistemi di tecnologie rinnovabili fotovoltaici e termici per produzione di energia elettrica e acqua calda per uso sanitario e per riscaldamento. Noi ogni anno siamo un po' degli affezionati perché ovviamente questa è anche l'occasione per proporre di più risparmio energetico e per divulgare di più sempre il concetto che si può risparmiare senza inquinare.